Ciao, benvenuti a tutti nello stand di Reda Revolution. Ancora una chicca da farvi vedere per la nuova collezione invernale autunno 17. Vi presento Ardito, è una maglia interessantissima costruita con uno dei tessuti più entusiasmati e performanti che abbiamo costruito e messo a focus in questi anni. È una waffle fleece, waffle fleece in 100% merinos, stupendo per essere portato sopra una t-shirt leggera in 140 jersey merinos o addirittura direttamente sulla pelle, dipende dall'uso che se ne vuole fare. Non conosco un materiale più traspirante e termoregolante ed è così tecnico all'interno della collezione stessa che possa superare in qualche modo questo nuovo concetto di felpa. Proprio per voi.